L'iscrizione obbligatoria alla Cassa Forense che la recente riforma impone a tutti gli iscritti agli albi a prescindere dal reddito e dall'effettivo esercizio professionale è assolutamente ingiusta perché dà luogo ad una vera e propria discriminazione generazionale imponendo oneri e contributi a tanti giovani avvocati che all'inizio di carriera con redditi bassi sono costretti a cancellarsi dall'albo e quanto afferma il consigliere regionale del PD Mario Polese che ha proposto con i consiglieri Giuzio, Pace, Rosa e Napoli la mozione approvata dal Consiglio regionale sull'argomento L'imposizione del contributo minimo, afferma Polese, ostacola in maniera grave il diritto costituzionale al lavoro peraltro fa notare la giurisprudenza comunitaria ha da tempo assimilato le professioni intellettuali all'attività di impresa e trova quindi applicazione il divieto di misure restrittive Anche grazie alle sollecitazioni dei consiglieri Rosa e Napoli abbiamo impegnato il Presidente Pittella e la Giunta a sollecitare i parlamentari affinché il regolamento sulle condizioni per l'esercizio della professione di avvocato che il Ministero della Giustizia sta predisponendo non venga applicato in maniera restrittiva ammettendo solo quanti hanno trattato almeno 5 affari annui Serve inoltre una riforma più complessiva degli ordini professionali conclude Polese volta a tutelare l'esigenza dei giovani che si avvicinano ad intraprendere l'attività forense Grazie 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 Grazie